Lasciamo la parola a Daniele De Martini della società Riverment che ci parla di Bentos in relazione agli interventi di riqualificazione fluviale in un tratto urbano. Buongiorno, in questa presentazione vi parlerò del monitoraggio che abbiamo fatto a seguito di un intervento di riqualificazione effettuato sul fiume Seveso. L'intervento è stato effettuato in un tratto all'interno del Parco Nord Milano e l'intervento è stato cofinanziato da Fondazione Cariplo. Il progetto è iniziato nel 2012, la realizzazione effettiva all'intervento di riqualificazione è stato fatto nel 2014 e il monitoraggio è stato fatto prima e dopo e copre un intervallo dal 2012 al 2016. Il Seveso era già stato nominato ieri in una presentazione, scorre in pienura padana e una lunghezza di una cinquantina di chilometri. Ha un uso in prevalenza urbana e agricola e soprattutto nell'ultimo tratto, quello in cui noi abbiamo effettuato il monitoraggio e l'intervento è un uso prevalentemente urbano. Il tratto riqualificato è stato di circa 700 metri all'interno del comune di Cormano. Siamo nel tratto terminale e per dare un'idea manca circa un chilometro e mezzo prima che il Seveso all'altezza dell'entrata del comune di Milano a Niguarda venga completamente intubato e scorra per ancora un po' di chilometri sotto terra. È una zona che viene spesso nominata ed è problematica perché è una zona in cui si creano spesso allagamenti a Milano a causa di piene improvvise. L'area di studio si presentava come un tratto con sponde rinforzate con alti muri di contenimento che creava una forte canalizzazione con problemi di restringimento dell'alveo e un alveo molto banalizzato in termini di habitat. Sono stati fatti vari tipi di interventi, noi non abbiamo partecipato in alcun modo alla progettazione dell'intervento ma siamo arrivati in un secondo momento chiamati perché il parco si poneva giustamente il quesito su come monitorare l'efficacia o meno dell'intervento. Parlando con i progettisti la filosofia è stata un po' di fare interventi diversi anche per capire in una zona soggetta piene così improvvise cosa effettivamente nel tempo potesse resistere e cosa no. Ai fini del monitoraggio abbiamo suddiviso il tratto in due punti, un riqualificato 1 e un riqualificato 2 partendo da monte, abbiamo identificato un sito di controllo appena monte del sito riqualificato che potesse servire da paragone, un sito per tutte le caratteristiche paragonabili a quello riqualificato ma che non ha subito interventi. Sono stati fatti interventi come ripressione delle vegetazioni sulle sponde in alveo, introduzione di vari elementi di bioingegneria in vari punti delle sponde del canale e in fondo è stata messa anche una piccola area di fitodepurazione nel tratto più a valle. Abbiamo raccolto diversi tipi di dati per il monitoraggio, abbiamo raccolto dati relativi all'habitat e all'idromorfologia, dati biologici e dati ambientali. Abbiamo raccolto dati prima dell'intervento nel 2012 per un triennio dal 2014 al 2016. Per quanto riguarda i dati relativi all'habitat li abbiamo raccolti col metodo Caravaggio che prevede il rilevamento di caratteristiche relative agli habitat fluviali e agli habitat ripari per un tratto di 500 metri. Vengono posizionati 10 transetti ogni 50 metri e in questi transetti si rilevano caratteristiche del canale come presenza di barre o i tipi di substrati, i tipi di flusso, vengono rilevate caratteristiche relative all'area ripariale e all'area circostante il corso d'acqua. Per questo specifico caso per adattarlo al nostro monitoraggio e per avere una descrizione maggiore di cosa si fosse fatto nell'intervento abbiamo posizionato i transetti ogni 25 metri invece che ogni 50 metri. Dal software con cui vengono archiviati le schede di campo sono stati poi calcolati tre indici, uno relativo all'uso del territorio sulle sconde nell'area circostante, un secondo l'habitat quality assessment che dà idea del grado di diversificazione e naturalità degli habitat nel corso d'acqua e un terzo habitat modification score che quantifica il grado di alterazione morfologica in termini di presenza di elementi artificiali. Abbiamo poi raccolto dati di biologia, abbiamo utilizzato il protocollo multi habitat proporzionale previsto dalla normativa vigente, l'unica differenza è che invece di tenere le 10 repliche previste tutte insieme le abbiamo tenute separate per eventualmente avere informazioni di maggior dettaglio sull'habitat. Abbiamo poi calcolato l'indice previsto per la classificazione ecologica in Italia, lo serie CMI e altre metriche comunemente usate per il monitoraggio biologico. Abbiamo poi raccolto i dati ambientali, più precisamente i dati previsti dalla normativa per il calcolo dell'indice Limeco e siamo andati a recuperare a posteriori alcuni dati di una centralina ARPA relativa al livello idrometrico di una centralina situata non lontano dal nostro punto. Ci siamo posti degli obiettivi, delle domande che possono essere rassunte in queste. E' come sia cambiata la qualità, se sia cambiata la qualità dell'habitat dopo la qualificazione, come la comunità biologica stia cambiando e se sta cambiando e se sta cambiando per via dell'intervento invece i cambiamenti sono casuali e non dipendenti e quali sono gli elementi chiave nell'eventuale cambiamento della comunità. In questo grafico potete vedere dei risultati relativi alla valutazione dell'habitat, ci sono tre grafici, uno relativo all'habitat modification score più a sinistra, il primo sito è quello di controllo e gli altri due sono riqualificato uno e riqualificato due. Si può vedere come a seguito dell'intervento effettivamente i dati di HMS siano leggermente scesi, la situazione rimane comunque impattata perché siamo in una classe moderata, ma da questo punto di vista c'è stato un miglioramento, miglioramento che c'è stato anche per quanto riguarda l'uso del territorio e anche in questo caso è migliorato, il punteggio migliora avvicinandosi a zero che è una situazione di completa naturalità e c'è stato un progresso. Per quanto riguarda la qualità degli habitat, i progressi più evidenti sono stati fatti nel sito Piavalle ma anche nel sito centrale Riqualificato 1 si vedono degli effetti. Abbiamo testato statisticamente questi dati che i risultati sono statisticamente significativi. Ci siamo posti poi, quindi siamo andati ad analizzare la componente biologica e ci siamo posti la domanda se esistessero differenze tra le comunità biologiche nei siti negli anni successivi all'intervento, le differenze sono stati significativi, ma andando poi a osservare cosa è successo attraverso un multidimensional scaling si può notare che i siti non si dividono in base ai siti di controllo, ai siti riqualificati uno e due ma si raggruppano in base agli anni, quindi sembra che ci sia una variazione temporale, variazione temporale che guardando la comunità sotto forma di indice si può notare bene in questo grafico relativo allo star ICMI. I siti sembrano proprio raggruppati come anni, le differenze purtroppo all'interno del stesso anno sono basse, i siti riqualificati sono tendenzialmente più alti del sito di controllo, ma le differenze sono molto basse, quindi la variazione temporale non sembra dovuta all'intervento di riqualificazione. Siamo andati poi a testare le componenti ambientali nei confronti della biologia. A titolo di esempio qua abbiamo messo alcune variabili raccolte e si può notare come il Seveso sia un sito molto molto impattato e la concentrazione di nutrienti sono sempre elevate e in alcuni casi sono decisamente elevate. Ed effettivamente andando a vedere poi la relazione tra i cambiamenti della biologia, i fattori ambientali e di idrologia, l'abbiamo analizzata attraverso una PLS che è risultata significativa, siamo andati poi a vedere il potere predittivo delle variabili attraverso una VIP e si è visto che le variabili predittive più importanti sono le variabili chimiche, quindi concentrazione di fosforo, concentrazione di azoto ammoniacale, ma anche l'azoto nitrico comunque si avvicina e anche i livelli idrometrici. Quindi in conclusione sembra che andando ad analizzare gli indici di habitat, la riqualificazione abbia avuto successo in questo senso perché ha ridotto gli impatti entropici nel corridoio e diversificato gli habitat del canale. La variazione della comunità però non è variata per via della riqualificazione, ma è una variazione temporale e i motivi che spiegano questa variazione sono fattori ambientali come chimica e idrologia. Considerazioni che possono essere fatte sono che seppur gli interventi di riqualificazione si sono dimostrati efficaci, se non si migliora la qualità dell'acqua gli effetti sulla biologia non saranno visibili perché la chimica è sicuramente un driver limitante per il miglioramento. Inoltre le indagini dovrebbero essere condotte per essere significative per un tempo maggiormente lungo e probabilmente per essere veramente efficace l'intervento dovrebbe essere condotto su un tratto un po' più lungo. Grazie. Grazie Daniele anche per aver riportato l'attenzione sulla qualità dell'acqua di cui a volte tendiamo a dimenticarci parlando di riqualificazione fluviale ma che deve diventare assolutamente un punto, un fulcro di tutti gli interventi. C'è tempo per una domanda. Buongiorno, grazie per la presentazione, molto interessante. Volevo capire un attimino che tipo di valutazioni avete fatto in via preventiva per scegliere gli strumenti di monitoraggio. In particolar modo mi riferisco agli indicatori della qualità idromorfologica e di Habitat. Allora, la scelta è ricaduta sul Caravaggio perché per via personale è il metodo che conosco meglio che ho contribuito anche a sviluppare e lo ritenevo fosse idoneo a valutare questi dati. Il Caravaggio funziona proprio a scala di tratto, quindi la mesoscala era adeguata a questa valutazione. Abbiamo poi, come detto, infittito i transetti in maniera tale da valutare ma effettivamente per lo scopo della ricerca ci sembrava un metodo adeguato più che altri e abbiamo scelto questo. Simone, l'ultimo. L'andamento temporale di miglioramento della qualità idromorfica, cosa l'avete legato? Allora, Simone mi sta chiedendo se l'andamento temporale, il miglioramento della qualità biologica, cosa l'abbiamo legato e sembra sia legato effettivamente a un miglioramento della qualità dell'acqua leggera nel senso che nei primi anni effettivamente le concentrazioni erano anche molto maggiori e c'è un trend di miglioramento della qualità chimica. Effettivamente l'habitat è in parte migliorato, nel senso che passando da una condizione molto banalizzata è diventato sicuramente più vario anche in termini di tipo di flusso, di presenza di barre. Prima non c'era nulla, adesso un po' si sono create. Quindi c'è la speranza che questo possa avere un po' contribuito ma sembra che effettivamente la qualità chimica sia la variabile principale in questo senso. Grazie.